Gruppo CNC, vendite e programmazione centri lavoro 5 assi, fantine multiasse, progettazione isole robotizzate, l'assistenza delle vostre macchine. La situazione meteorologica di sistemarsi non ne vuole proprio sapere. La giornata di giovedì infatti dopo qualche schiarita vedrà l'avvicinarsi di nuove correnti umide dal sud ovest, oltre a qualche pioggia. Nel dettaglio in mattinata avremo un cielo parzialmente nuvoloso con qualche foschia. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su tutti i settori con rovesci soprattutto sulla fascia prealpina. Stesso scenario atteso in serata. Veniamo alle temperature con minima in lieve aumento seppur ancora al di sotto della norma. E con questo è giunto il tempo di salutarci. Arrivederci. Assistenza delle vostre macchine.